Buongiorno Daedo, oggi è il 21 dicembre e come tutti gli anni e come l'anno scorso Ricordo mancavano quattro giorni a Natale Sì, e quindi voglio fare tanti auguri di buon 21 dicembre a Andrea Burruso e Donata Columbro che quanto pare ci tengono tantissimo a questa ricorrenza tra l'altro qualche anno fa avevano pure fatto un sito web per la ricorrenza di quattro giorni a Natale però non c'è più però nonostante questo io gli auguro comunque tantissimi auguri a loro e a tutti voi se siete tra i pazzi che festeggiano questa giornata comunque andatevi a rivedere lo sketch di Albanese, di Alex Drastico perché comunque fa sempre ridere tra l'altro ieri non c'è stato buongiornissimo perché l'ho fatto per voi come mi ha detto Riccardo ogni tanto bisogna fermarsi per consentire di recuperare anche gli episodi precedenti le puntate che non sei riuscito a vedere quindi vedi Riccardo ti ascolto e lo faccio per voi mi fermo per... non perché io ma per voi è una cosa... vabbè... notizie di oggi allora la notizia più importante di oggi che ho selezionato per voi oggi è una vulnerabilità interessante esploitata con un attacco proprio creato da ricercatori dell'università di Bochum che sta in Renania in Germania bene questi ricercatori hanno scoperto che potevano... che possono degradare la sicurezza di una connessione SSH impedendo lo scambio di alcuni messaggi tra server e client quindi se voi sapete come funziona SSH all'inizio quando si stabilisce una connessione tra server e client c'è un handshake quindi c'è uno scambio di messaggi in chiaro che contengono informazioni sulla connessione, sui protocolli utilizzati insomma queste informazioni contengono anche dei metodi per garantire la sicurezza della connessione stessa ebbene questi ricercatori hanno scoperto che possono evitare che alcuni messaggi vengano scambiati senza farlo sapere a client e server quindi questo attacco può abbassare il livello di sicurezza della connessione eliminando alcuni dei controlli per esempio in questo caso disattivando delle contromisure legate ad attacchi di timing dei keystroke quindi delle battiture sulla tastiera questo sull'ultima versione di Open SSH 9.5 per poter eseguire questo attacco che si chiama Terrapin e lo trovate su terrapin-attack.com trovate un po' il riassunto di come è fatto questo attacco e il paper che poi è molto più dettagliato naturalmente bene per poter eseguire questo attacco è necessario essere in posizioni di man in the middle cioè bisogna essere in grado di intercettare le connessioni tra le due entità quindi tra server e client e inoltre è necessario che questi due utilizzino dei protocolli criptografici specifici cioè Chacha20 Poli 1305 oppure CBC con Encrypt Then Mac trovate anche su Github il Terrapin Scanner che vi consente di verificare che nella vostra rete, nel vostro server ci siano queste vulnerabilità ci sono le condizioni per sfruttare queste vulnerabilità lo trovate su Github se cercate Terrapin Scanner e io andrei a prendere un articolo di The Register che ci dà una descrizione ancora più accurata di come sfruttare ecco questo attacco innanzitutto diciamo che queste vulnerabilità sono già delle CVE quindi ci sono tre CVE specifiche una per il generico protocollo SSH e due specifiche per il client Python che si chiama Async SSH che è un client che si stima abbia 60.000 download al giorno quindi e ora vi racconto seguendo un po' la descrizione di The Register come dovrebbe funzionare lo sfruttamento specifico di questa vulnerabilità che ripeto avviene in alcune circostanze specifiche e si può riuscire in queste circostanze a prendere dei dati importanti come appunto la password dell'utente sul server allora quando un client SSH si connetta al server SSH prima che inizi la connessione sicura e crittata su canale crittato c'è questo handshake in questa fase scambiano delle informazioni che sono plain text quindi non crittate ognuna delle due parti ha due contatori di sequenza una per i messaggi ricevuti e una per i messaggi mandati quando un messaggio viene inviato o ricevuto il sequence counter relativo viene incrementato e quindi questi contatori simboleggiano il totale dei messaggi mandati e ricevuti come attacco man in the middle Terrapin richiede di iniettare un messaggio di tipo ignore in plain text prima appunto della connessione sicura durante l'handshake in questo modo il client pensa che questo messaggio arrivi dal server incrementa il sequence counter per i messaggi ricevuti poi ignora il messaggio a questo punto quando la connessione sicura viene stabilita l'attaccante man in the middle blocca il server che sta mandando un messaggio crittato al client che contiene alcune informazioni su difese della connessione e questo messaggio anche se è crittato non importa perché non viene proprio ricevuto quindi il client pensa ad avere il numero di messaggi corretti ma il server invece pensa ad aver mandato questo messaggio che contiene informazioni di sicurezza quindi capite sia il server che il client pensano di aver mandato il numero corretto di messaggi perché i contatori sono corretti, sono giusti ma ci sono dei messaggi che sono stati bloccati l'attaccante man in the middle li ha bloccati quindi non c'è stato scambio di informazioni sui protocolli di sicurezza da utilizzare durante la connessione e in questo senso la connessione è meno sicura risulta degradata nelle sue basi di sicurezza e a quel punto possono essere sfruttate alte vulnerabilità perché appunto non ci sono state le contromisure adeguate potete vedere uno schemino creato dagli stessi ricercatori che vi fa vedere l'elenco dello scambio di messaggi con i contatori che vengono incrementati alcuni messaggi vengono appunto ignorati ma i contatori vengono incrementati lo stesso perché c'è appunto questo man in the middle quindi questo schemino vi fa vedere un po' visivamente che cosa accade a questo punto è possibile disabilitare alcune estensioni in pratica degradare la sicurezza della connessione e sfruttare altre vulnerabilità specifici nel client o nel server è importante ripeto che ci siano due algoritmi di equitazione specifici ve li ho detti prima che devono essere usati da client e server e sono appunto caccia 20 e il cbc encrypted mac quindi cbc etm e dalla ricerca emerge anche che più di tre quarti dei server ssh pubblici implementano uno di questi algoritmi quindi comunque la percentuale è molto alta no? le mitigazioni le patch sono già in circolazione la versione 9.6 di open ssh è stata rilasciata lunedì quindi tra gli update insomma di questa versione c'è anche una mitigazione a terrapin altri software hanno mitigato a loro volta putti 0.8 è stato rilasciato questa settimana appunto che indirizza specificamente terrapin anche l'ib ssh 0.16 e l'ib ssh 0.9.8 sono state appunto rilasciate queste patch per bloccare questa vulnerabilità naturalmente ce ne saranno anche altre mano a mano che tutto questo si diffonde torniamo un attimo a parlare di open tofu sapete il fork di terraform che prima era open tf poi è stato accolto sotto l'ombrello della CNCF è diventato open tofu nome fantastico e logo meraviglioso e quindi di open tofu cosa dobbiamo dire? che è stata rilasciata la nuova versione che è la RC quindi è la prima release candidate e siamo pronti ad avere la general availability la GA per gennaio 10 perché leggo all'inglese? no per il 10 gennaio il titolo è scritto all'inglese e mi viene così comunque il 10 gennaio è settata appunto questa milestone la prima versione pubblica GA di open tofu adesso siamo alla 1.6 RC1 quindi ecco una release importante perché è una candidate naturalmente ci sono correzioni di bug c'è un miglioramento generale della stabilità del tutto e aggiornamenti alla documentazione la cosa veramente importante sottolineata a parte che naturalmente l'articolo sul blog ufficiale di open tofu.org mette in evidenza il fatto che si sia passati dall'idea della release alla RC in soli 4 mesi che comunque è una milestone importante c'è anche tutto un riassunto dei passi più importanti anche attraverso una grafichetta che vi fa vedere tutti i passaggi la cosa veramente importante e grossa è il registry perché naturalmente una delle sfide maggiori che il team di open tofu ha dovuto affrontare è quello del registry sapete che Terraform ha un suo registry da cui è possibile scaricare provider e moduli benissimo ora sono riusciti ad implementare un registry pubblico e quindi è possibile procedere verso una release al pubblico perché questo registry nuovo può essere un drop in replacement per il registry di Terraform ci sono anche delle cifre open tofu ha superato i 31.000 download oltre 60 contributore oltre 1000 pull request e issue segnalate quindi insomma un progetto vivo, attivo e vitale seguiremo naturalmente il party di lancio a gennaio il 10 gennaio ci sarà un release party della versione stable GA tra l'altro ho saputo che open tofu avrà un suo open tofu day durante la cubecon durante i collocated events e quindi visto che sarò in zona magari darò un'occhiata vediamo un po' che aria tira allora un piccolo aggiornamento sulle news di due giorni fa vi ricordate che Adobe ha bloccato la sua acquisizione di Figma per 20 miliardi di dollari ora deve pagare un miliardo a Figma per la mancata acquisizione è stata bloccata ripeto perché i regolatori UK e EU hanno deciso appunto di bloccarlo per questioni di competizione dell'antitrust ora su The Verge trovate delle dichiarazioni del general council di Adobe Dana Rao che spiega perché praticamente questa decisione la decisione di abbandonare le trattative praticamente non è stato possibile per le due compagnie per Adobe e Figma dimostrare agli enti europei che l'acquisizione non avrebbe danneggiato la futura concorrenza questo questo è un punto su cui si concentra molto perché dice che i regolatori sono stati molto attenti a nuove dottrine dell'antitrust che parlano appunto di questa future competition della competizione futura quindi del nuovo assetto di mercato che si viene a creare dopo una fusione di questo tipo a quel punto Adobe e Figma hanno deciso che non avevano armi ecco non avevano argomentazioni da opporre a questo tipo di leggi e quindi hanno deciso di interrompere l'accordo e di non consentire appunto ulteriori indagini ulteriori investigazioni da parte della commissione europea e della competition and markets authority e un altro piccolo aggiornamento riguardo sempre quello che vi dicevo l'altro giorno threads e l'ingresso di threads nel fediverso la federazione di threads nel fediverso sappiate che sapete vi dicevo che molte istanze stanno bloccando i server threads e gli utenti threads dal federarsi con i server di Mastodon ecco queste molte istanze di Mastodon e c'è una un patto c'è una cosa un pochino strutturata che vi fa capire come ecco prende forma questo movimento di opposizione a threads questo patto si chiama anti-meta fedipact lo trovate su fedipact.online ci sono i firmatari del patto che fondamentalmente sono gli admin di molte istanze ci sono anche istanze italiane naturalmente e anche le motivazioni il perché di questo patto naturalmente sono motivazioni più che altro etiche e sul fatto che la filosofia dietro a meta e instagram e threads non è compatibile con invece l'etica e la filosofia del fediverso ed ecco perché insomma la decisione di bloccarlo comunque fedipact.online e trovate anche questo ecco qualche informazione in più su questo movimento di opposizione a threads concludo qui come sempre vi lascio due link il primo si chiama The World Before Git lo trovate su osshistory.org The World Before Git appunto ed è un'analisi insomma un piccolo un piccolo articolo un piccolo saggio che vi racconta com'erano i sistemi di versioning del software prima dell'arrivo di Git appunto e attenzione si parla di nostalgia quindi svn e anche priva di svn insomma è un racconto interessante se vi interessa un po' capire l'evoluzione dell'informatica e il mondo che ha portato appunto a Git e l'altro link che vi consiglio è un paper un altro paper scientifico pubblicato su Nature si chiama Drivers of Social Influence in the Twitter Migration to Mastodon è un paper scritto da tre italiani tra l'altro tre ricercatori italiani Lucio Lacava Luca Maria Aiello e Andrea Tagarelli e fa un'analisi della migrazione degli utenti da Twitter a Mastodon per capire un po' quali fenomeni sociali hanno influenzato questa migrazione e va un po' a vedere cosa ci gira attorno insomma quello che chiamano social influence quali fattori hanno portato certi utenti e certe comunità a spostarsi in quali tempi eccetera è piuttosto interessante trovate naturalmente un abstract un'introduzione che ve lo racconta in modo un pochino più divulgativo se non volete andarvi a leggere tutto il paper che magari è un pochino più complesso comunque è interessante è interessante darci un'occhiata abbiamo finito mancano ancora quattro giorni a Natale quattro giorni a Natale quindi se non ci risentiamo prima di Natale come sapete a voi e famiglia e vi ricordo di seguire anche l'ultima puntatina di Continuous Delivery che c'è lo specialone di Natale con Riccardo Paloma e Moro Linux parliamo naturalmente indovinate un po' di Linux per il resto noi ci vediamo quando ce la facciamo quando ci sono delle nuove news frizzantine se no ci vediamo l'anno prossimo che tanto siamo sempre qua e sempre contenti quindi alla prossima ciao quattro giorni a Natale quattro giorni a Natale quattro giorni a Natale no però dove cose serie non si può scherzare non rim uranium le sede. Se cose serie non si può scherzare. Quattro giorni in maniera. No, no, però le cose serie andrà a rimanere serie, non si può scherzare su cose serie.